Allora ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Video sul resoconto della classifica che avevo fatto come pronostico 2021-2022. Questo è il primo video che faccio, il secondo lo farò sulla Juventus dove faremo l'analisi più nel dettaglio della stagione, la prima del ritorno di Massimiliano Allegri. Oggi analizzeremo molto approfonditamente la stagione della nostra squadra, però bando alle ciance e veniamo al pronostico della serie A 2021-2022 che avevo fatto a settembre. Allora, il mio pronostico era questo, lo ripeto, parto dal ventesimo posto fino ad arrivare al primo e poi facciamo una piccola analisi per il campionato di tutte le squadre. Allora, Venezia, Salernitana, Spezia, che secondo me sarebbero andate in serie B a inizio anno, a inizio anno questo ricordiamo, Empoli, Bologna, Genoa, Verona, Cagliari, Udinese, Torino, parte destra, parte sinistra, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo, Atalanta, Roma, Lazio, Napoli, Inter, Milan e Juventus, campione d'Italia, avevo pronosticato. Allora, partiamo dal ventesimo posto, il Venezia. Il Venezia è una squadra che ho detto che fin da subito sarebbe retrocessa, una squadra, sì, per carità, con un buonissimo allenatore come Zanetti. Comunque il suo l'ha fatto, amato dalla tifoseria, però comunque la proprietà ha deciso di mandarlo via, ha fatto anche rima. Non è bastato ai Lagunari per rimanere in serie A comunque vittorie, per esempio come quella con il Bologna, pareggi come quello in casa contro la Juventus. non sono bastate prestazioni buone, non è bastato mettere in difficoltà le grandi a Venezia per rimanere in serie A e Venezia che appunto torna in B dopo solo un anno di permanenza in serie A con 27 punti, se non vado errato. Diciannovesimo posto che io avevo dato, e il Venezia è azzeccato perché è arrivato ventesimo. Avevo messo diciannovesimo alla Salernitana, che è arrivata invece diciassettesima. A iniziare hanno detto, bah, una squadra che gioca molto di catenaccio, come abbiamo potuto vedere dalle prime partite, ha giocato di catenaccio praticamente fino all'arrivo di Davide Nicola, e questo è sotto gli occhi di tutti. Tre cambi d'allenatore, l'ultimo dei quali si è rivelato molto molto vincente, è molto azzeccato perché, ripeto, uno come Davide Nicola, secondo me tu gli dai l'obiettivo e lui te lo fa tranquillamente. Lui è il re delle salvezze, questa è la terza praticamente con una squadra allo sbando, perché ricordiamo Crotone, Torino e Salernitana che erano praticamente sul piede di dire addio alla Serie A, però alla fine hanno ribaltato i pronostici e sono rimasti nella massima categoria italiana. Una stagione, quella della Salernitana, che è stata brutta, negativa, fino praticamente a un mese e mezzo fa. Dopo Pasqua c'è stata la scossa mentale, detto noi non siamo ancora morti definitivamente, matematicamente, proviamocela a giocare e ci sono riusciti. Quindi complimenti alla Salernitana e a Davide Nicola. Avevo messo diciottesimo lo Spezia, Salernitana che in realtà è arrivata a diciassettesima, sedicesimo invece lo Spezia, che io avevo messo diciottesimo, una squadra che ha fatto leggermente di più di quello che mi aspettavo, ha fatto una stagione decente, insomma una buona stagione, tranquilla, la salvezza, è arrivata a 3-4 giornate, mi sembra, mi ricordo, 2-3 giornate d'anticipo a Udine, con il 3-2 sull'Udinese proprio in Friuli. E' stato uno Spezia che non ha esaltato granché con il gioco, come mi aspettavo comunque con Tiago Motta, che è uno che si dice che faccia bel calcio di qua e di là, una stagione comunque decente, una buona stagione quella di Tiago Motta che molto probabilmente lascerà per lasciare a un altro allenatore, si dice Pirlo, chi lo sa, non lo so, però una stagione leggermente sopra le mie aspettative, con giocatori molto validi secondo me come Bastoni Maggiore e soprattutto il portiere, Provedel. Provedel, secondo me lo dico qui, è un signor portiere, è un signor portiere, quindi io direi per le squadre grandi del nostro campionato, per le big o per le medio-grandi, di tenerlo assolutamente sott'occhio. Così come il portiere dell'Empoli, che io ho messo 17esimo, ma che in realtà ha fatto un buonissimo, più che buon campionato, è arrivato 14esimo, una squadra che era partita a razzo, una squadra che era partita a mille, dopodiché nella seconda parte del campionato si è assolutamente persa, dove ha collezionato, mi sembra, 4 pareggi e 2 vittorie, l'ultima delle quali è arrivata proprio all'ultima giornata a Bergamo contro l'Atalanta, una squadra che ha battuto, dopo che aveva battuto la Juventus, avevano cominciato a dire, dopo anche la bella prestazione con la Lazio, dove comunque avevano perso in casa 3-1, mi sembra, avevano cominciato a dire questo è l'anno dell'Europa dell'Empoli, l'Empoli può arrivare lontano, l'Empoli può fare, io ho detto secondo me crollerà nella seconda parte di stagione, tra me e me, non l'ho mai detto su YouTube, ma l'ho pensato, crollerà nella seconda parte di stagione, in effetti è crollato, e è arrivato quattordicesimo, comunque conquistando 41 punti, che non era poco, insomma anche il mister Andrazzoli, che ha fatto un grandissimo lavoro secondo me, con una squadra anche buona, avendo degli elementi come Zurkowski, Stulatz, Nedim Bairami, che è uno dei miei pupilli, io ne parlo da 2-3 anni, anche se non su YouTube, su YouTube l'ho cominciato a accennare da quest'anno, però è un calciatore che già conosco da un paio d'anni, ed è secondo me un buonissimo prospetto, anche lui si è perso nella seconda parte dell'anno, nella prima parte dell'anno invece aveva fatto molto molto bene, tant'è che insomma le voci di mercato lo vogliono a Torino, al Sassuolo, vedremo. E proprio lo stesso portiere dell'Empoli, Vicario, che secondo me anche lui è un grandissimo, come Provedel, un bel giovane, diciamo farà, secondo me, molta molta strada, si parla di già contatti avviati con la Fiorentina, e quindi vedremo dove andrà, Vicario, secondo me la Fiorentina è una buona soluzione per lui per cominciare qualcosa di grande nella sua carriera. Bologna, che ho messo stedicesimo, è arrivata a tredicesimo, un campionato partito normalmente, dopo invece verso settembre, ottobre, ha cominciato a tentennare un pochino, dopo di che ha risalito la china, soprattutto nell'ultimo periodo, forse è dovuto anche alla questione Sinisa Mijailovic, a cui io mando un abbraccio insomma dal web. Sembra che sia guarito, quindi buono, molto bene, mi fa piacere. E forse anche la scossa, ecco appunto Mijailovic ha dato, nell'ultime giornate, vedi la prestazione contro la Juventus, vedi comunque contro la Roma, vedi comunque le prestazioni delle ultime giornate, il Bologna è riuscito a mettere in seria difficoltà, grandi squadre, l'Inter per esempio, e il Bologna possiamo dire alla fine è stata la giustiziera dell'Inter, in campionato complice anche l'errore di Rato, ma poi ci verremo con calma. Una squadra che non avendo grandi campioni, però esprime un buon calcio, buoni calciatori come Orsolini, Soriano, Arnautovic che si è rivelato un attaccante sopra la media in Italia, ha fatto 14-15 gol quest'anno, e quindi diciamo un tredicesimo posto tranquillo, il solito campionato, vedremo se Sinisa Mialovic rimarrà proprio sulla panchina rosso-blu. Quindicesimo avevo messo il Genoa, il Genoa io lo davo in retrocessione da due anni ormai, e quest'anno che non l'avevo messo in retrocessione è arrivata, una squadra che ha cambiato due o tre allenatori, adesso non mi ricordo, Ballardini ha iniziato, e non mi ricordo se è arrivato subito Blessin o c'era qualcuno in mezzo, però Blessin, allora Ballardini si è dimostrato ancora una volta un allenatore che può risollevare la situazione, ma se deve cominciare la stagione lui non sa da dove partire. Blessin si è rivelato invece un buon Ballardini sotto questo punto di vista, uno che comunque ti ha riaddrizzato un pochino la stagione, si pensava che molto probabilmente il Genoa si sarebbe per l'ennesima volta salvato, piccola parentesi, dopo anche quello che ho visto con la Juventus, dopo quello che ho visto, io pensavo succedesse la stessa cosa anche a Napoli, perché Napoli, vabbè, ha detto vabbè, sarà in Champions, li faranno, non lo so, metteranno anche loro le riserve, faranno vincere il Genoa, invece no, invece no, perché Napoli ha fatto il suo dovere, ha vinto contro il Genoa, spedendo la squadra di Blessin in Serie B, in Serie B, in cadetteria dopo 15-16 anni, da quando siamo tornati noi da Farsopoli, Calciopoli, Farsopoli, il Genoa non andava in Serie B, quindi sono 15-16 anni, torna nella cadetteria, il peggior attacco di questo campionato, con 27 gol realizzati, e devo dire che è un po' una delusione, perché con Ballardini aveva fatto un buon lavoro di risollevamento lo scorso anno, Blessin stava per fare quasi il miracolo, perché il Genoa era praticamente spacciato da subito, poi ha fatto, mi sembra, sette vareggi di fila, non ha perso per sette giornate, dopodiché ha cominciato ad arrivare un paio di vittorie, e poi tutte sconfitte, tant'è che il Genoa retrocede dopo tanti anni, e soprattutto dopo che hanno ceduto la proprietà, perché quest'anno il Genoa ha cambiato proprietà. Quattordicesimo posto per l'Ellas Verona, avevo messo, invece è arrivato nono, molto molto bene il campionato dell'Ellas Verona, io avevo detto, come avevo pronosticato, Di Francesco non sarebbe arrivato neanche a metà settembre, infatti è stato così, dopo le quattro giornate l'hanno mandato via, arriva aria nuova, arriva un tecnico molto molto ma molto bravo, come Igor Tudor, che ha risollevato la situazione, ha dato un gioco al Verona, ed è molto bello da vedere la squadra scaligera, un calcio molto fluido, molto di movimento, un calcio molto moderno, il che è quello che mi piace tanto, 3-4-2-1, molto 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 veloce, e io avevo detto sarebbe arrivato quattordicesimo, perché sarebbero andati comunque in zona retrocessione, magari diciottesimo, diciannomesimo posto, e poi si sarebbero risollevati, ma non pensavo così tanto dopo quelle prime giornate di sconfitta, però dunque bisogna fare i complimenti a Tudor, che si dimostra un signor allenatore, anche lui è un grande allenatore, che meriterebbe di più, secondo me, con tutto il rispetto per il Verona, che secondo me ha anche un buon progetto per poter arrivare in Europa tranquillamente, e me lo auguro l'anno prossimo che arrivino in Europa, perché dopo 3-4 anni in Serie A se lo meriterebbero, un po' come il Sassuolo di qualche anno fa. Tredicesimo posto che l'avevo pronosticato per il Cagliari, un'altra delusione secondo me quella del Cagliari, una squadra che secondo me ha tutte le carte in regola per restare in Serie A e per giocarsela per la metà della classifica, comunque buoni prospetti, un buon portiere come Cragno, due buonissimi difensori giovani come Altare e Carboni, centrocampisti molto validi come Gaston Pereiro e Marin, un esterno comunque decente come Dalbert, e due punte di esperienza come Pavoletti e Gioo Pedro, io sinceramente il Cagliari tutto avrei detto quest'anno fuorché andasse in Serie B, e molto probabilmente si assisterà a uno smantellamento della squadra dopo questa triste pagina della storia rosso-blu, andranno in Serie B dopo sette anni, otto anni di permanenza, adesso non mi ricordo, mi sembra, sono tornati nel 15-16, mi sembra sono tornati, quindi sono, sì, sette anni, dopo sette anni di Serie A. Una delusione anche perché io non mi sarei mai aspettato che il Cagliari suonerasse semplice, che l'anno scorso aveva fatto il miracolo, è vero era partito male, ma purtroppo continuiamo sempre a dire che in Italia si aspetta poco, in Italia si aspetta poco e cinque giornate non è che puoi valutare, cioè va bene tutto, ma va bene una stagione, ma cazzarola, lui manco ne ha fatta mezza, punto primo, punto secondo, tu dopo sei giornate ti permetti di cacciare un allenatore, che l'anno scorso grazie a lui sei rimasto in Serie A, e poi non andiamo a dare le colpe in giro, perché questo è il problema, cioè se tu avessi tenuto, se il Cagliari secondo me avesse tenuto semplici, quest'anno il Cagliari si sarebbe salvato a mani basse, a occhi chiusi, invece ha fatto tre cambi d'allenatore, esonerando Mazzarri a tre giornate dalla fine, una scelta secondo me scellerata, perché tre giornate dalla fine tanto vale tenertelo, che cosa mi rappresenta prendere l'allenatore della primavera e metterlo lì in prima squadra, senza esperienza, senza un minimo di... non capisco sinceramente il Cagliari, io dico per le scelte scellerate, la Serie B è il minimo, però chiaramente se vado a vedere la squadra e vado a vedere la rosa, questa è una rosa che può ambire magari a un undicesimo, decimo, nono posto, ecco, alla metà della classifica, quindi peccato, Udinese l'ho azzeccata, dodicesima, una squadra che comunque ha fatto il suo campionato tranquillo, ha messo in difficoltà le grandi, come ormai sappiamo già da diversi anni, ha preso quel punto contro la Juve la prima giornata, così perché Scesni ha deciso di regalarglielo, di regalarglielo, però insomma devo dire che una squadra piena a zeppa di giovani, piena a zeppa comunque di giocatori di esperienza, vedi per esempio il Tuku Pereira, è una squadra che comunque ha fatto il suo onesto campionato come tutti gli anni, anche l'Udinese secondo me potrebbe ambire a qualcosa di più. Il Torino, undicesimo, è arrivato decimo, peccato, ho sbagliato di poco, una squadra che con Iva Iuric ha ritrovato gioco, ha ritrovato serenità, ha ritrovato compattezza nell'ambiente, anche se l'anno prossimo smantellerà un bel po' di squadra, Mandragora, Pobega, comunque faranno un ritorno, ecco Mandragora tornerà a Torino, Pobega tornerà al Milan, Brega lo tornerà al Wolfsburg, non capisco il perché di non rinnovarlo, secondo me è un giocatore molto valido, si parla comunque di permanenza in Serie A, forse Milan, così dicono, e sarebbe secondo me un punto di svolta per la sua carriera, però staremo a vedere. giocatori, ecco, medi giocatori, che un allenatore competente e capace è riuscito a dargli un gioco, e quindi, scusate, complimenti al Torino per la stagione che ha fatto, una stagione, una prima stagione di nirascita per i Granada, che probabilmente l'anno prossimo, con questo progetto, anche se non con un grande mercato, vedremo quello che faranno, secondo me potrebbero ammirare tanto, a qualcosina di più, magari all'Europa come 3-4 anni fa. Belotti, che fine farà? Non lo so, staremo a vedere. Mi auguro che rimanga in Serie A, anche se non l'ho reputo un grandissimo attaccante, un buon calciatore, niente di che. Non me ne vogliono chiaramente i tifosi del Torino. Decimo posto avevo messo la Fiorentina, che è arrivata settima. Brava la Fiorentina, devo fare un applauso. Brava Vincenzo Italiano, un allenatore, anche lui, competente, giovane, capace, che ha portato la sua età di calcio a Firenze, che era una squadra che fino all'anno scorso giocava per la salvezza. Un allenatore che ha dimostrato di saper dare un gioco alle proprie squadre, di saper dare un atteggiamento, un'identità, anche una bella dose di carattere, di grinta, di cattiveria. e secondo me ha trasformato un... perché bene o male la Rosa è rimasta quella, a parte due o tre individui, a parte Torreira, a parte Odrio Sola, la squadra è rimasta quella. Poi è andato via Vlaovic, a metà stagione, è stato rimpiazzato tra Cabral e Pionte, che comunque hanno fatto molto bene, si sono disimpegnati molto bene per sostituire l'ormai nostro giocatore Dusan Vlaovic, e quindi non ne hanno fatto sentire assolutamente la mancanza a Firenze. Si sono disimpegnati molto bene. Un centrocampo visto molto fluido, un centrocampo molto veloce, non riscatteranno Torreira, anche questa non la capisco come scelta, non riscattare Torreira in una stagione dove andranno in Europa, perché andranno a giocarsi la Conference League. Io personalmente Torreira l'avrei riscattato, io lo vorrei sempre Torreira, è uno che sinceramente è nella mia lista dei desideri, perché è un giocatore, è vero che è piccolo di statura, ma è molto bravo col pensiero, molto bravo a verticalizzare, insomma a buona visione, quindi perché non tenerlo Torreira. Vedremo il mercato che faranno per cercare di arrivare più là possibile in Conference, magari sarà la nuova Roma l'anno prossimo, io personalmente non credo, poi staremo a vedere. La Sampdoria, io l'avevo messa a nona, è arrivata a quindicesima, la Sampdoria è anche lì una delusione, io mi aspettavo con D'Aversa un gioco un po' più spumeggiante, mi aspettavo qualcosina di più da Roberto D'Aversa, che è un allenatore secondo me capacissimo, competente, ci sa fare con il calcio, l'abbiamo visto con il Parma le prime due stagioni, poi l'hanno mandato via, è arrivato Oliverani, sono andato in Serie B, un allenatore che sa esprimere un bel calcio, però alla Samp non è stato così, infatti mi meraviglio di questo, sarà l'ambiente, saranno i giocatori, sarà quello che vi pare? Può anche essere, io comunque mi aspettavo di più dalla Sampdoria, che dopo D'Aversa ha preso Gianpaolo, è riuscito a fare questo piccolo miracolo a salvare la Sampdoria, e anche per un altro anno di fila, giocherà in Serie A, la Sampdoria tra l'altro l'avevo messa nona, perché dopo il bel campionato con Ranieri, era arrivata, mi sembra proprio nona, era arrivata proprio nona la Sampdoria l'anno scorso, mi aspettavo che comunque D'Aversa continuassi il lavoro del buon Claudio Ranieri, anche lui un allenatore di grandissime esperienze e grandissima capacità. Ottavo posto gli avevo messo per il Sassuolo, è arrivato undicesimo, anche a Dionisi bisogna fare un grande applauso, un allenatore esordiente in Serie A, collezionato 50 punti, così proprio come il Torino, un allenatore che si è dimostrato subito competente, capace, di sapere esprimere un buon calcio, offensivo, di sapere insegnare un bel gioco d'attacca, e soprattutto di sapere insegnare le combinazioni d'attacco, anche perché quest'anno i quattro davanti del Sassuolo hanno espresso un calcio secondo me bellissimo, hanno espresso grandi combinazioni, grande intesa, sarà anche per il fatto che giocano insieme da ormai 4-5 anni, a parte Scamacca e Raspadori, però insomma, mi è sembrata comunque una buona squadra. Anche lì, come la stessa cosa della Fiorentina, ecco, stessa cosa della Fiorentina, il Sassuolo mi è sembrato un po' altalenante, cioè alternava grandi prestazioni con grandi squadre, con prestazioni mediocre, magari con squadre addirittura più basse in classifica, quindi anche su questi sono degli aspetti che sia italiano che Dionisi dovranno lavorare in questi anni, però chiaramente questo tutto fa esperienza, è normale, ci sta. E quindi complimenti al Sassuolo, che spero l'anno prossimo ambisca, anche lei ha qualcosa di più, anche perché dà più anni in Serie A. Settimo posto, invece arrivato ottava, l'hanno messo per l'Atalanta. Prima stagione senza Europa per il Gasp, prima stagione senza neanche qualificarsi ai preliminari, perché nel 17-18 andarono ai preliminari, uscirono col Copenaghen, all'ultimo turno del miniaturio, una squadra che era partita molto molto bene, a differenza degli altri anni, quest'anno è partita ben affinito male, solitamente era il contrario, io pensavo potessi ambire addirittura magari a un secondo o terzo posto, perché no anche allo Scudetto, invece è caduta proprio lì l'Atalanta, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina e quella in campionato, proprio sempre con la Fiorentina, hanno definitivamente crollato, hanno definitivamente distrutto, anche dal punto di vista tattico, oltre che psicologico, l'Atalanta che da lì non ci ha capito più niente. Sesto posto e l'ho indovinato, così come il quinto, per Roma e Lazio. Allora, io avevo detto che le squadre di Murigny e Sarri comunque sarebbero arrivate molto vicine alla zona Champions e non mi sono sbagliato di tantissimo, ci passano sei punti, non tantissimo ecco, però neanche una cavolata. Due squadre che comunque hanno espresso, vabbè, Murigny non proprio un grande calcio, però ha dimostrato che con questa rosa ha dato un atteggiamento alla Roma, un atteggiamento di una squadra di calcio, ecco è sempre quello che dico io, ha dato Murigny, anche se non un grandissimo gioco, un atteggiamento a una squadra. E soprattutto guidata da un grande attaccante, secondo me, come Tami Abram, un attaccante di fisico, un bomber anche, io lo paragono sempre a Lukaku per le caratteristiche fisiche e tecniche, un attaccante che ha risolto molte situazioni, un attaccante molto molto valido, secondo me, affiancato da una buona rosa, da un buon reparto offensivo, e niente, da dire complimenti alla Roma e speriamo che, essendo una squadra italiana, vinca la finale domani sera, perché Roma feglie in ordine della finale di conference, io l'ho detto dall'inizio stagione che la Roma avrebbe vinto la conference, l'ho detto addirittura l'anno scorso, mi sembra quando ho fatto il video d'arrivo a Murigny, ho dissi che la Roma sarebbe arrivata in finale di conference, probabilmente contro il Tottenham, ma così non è stato, perché era stata eliminata per la questione di positivi che aveva a dicembre. Dopo il brutto cammino di Spirito Santo. Veniamo alla Lazio, una squadra che ha espresso poco, il sarrismo che mi sarei aspettato, anche la Lazio, una squadra molto molto altalenante, poteva vincere con una grande squadra e poteva perdere con l'ultima, sicuramente ci sarà molto da migliorare sia sul mercato che dal punto di vista del gioco per quanto riguarda Mr. Sarri, per quanto riguarda invece la Roma, mi sono scordato di dire un'altra cosa, che anche Murigny, quest'anno così come Fonseca ha fatto la parte centrale della stagione praticamente anche lì molto altalenante, molto bipolare, cioè una squadra che alternava magari grandi prestazioni e vittorie contro magari squadre importanti e quelle della metà, comunque bassa classifica, rischiavi anche di andarci a perdere. Per esempio con lo Spezia, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto che se non fosse stato per quel rigore che c'era, secondo me al 95esimo, la Roma pareggia, quindi per dirvi, per dirvi anche un po', no, Lazio e Roma dovranno lavorare molto l'anno prossimo per migliorare, assolutamente, e credo possano migliorare, anche perché il calcio a Roma è una cosa molto molto seria e ve lo dico io in prima persona che lo so. Le prime quattro le ho azzeccate, le ho azzeccate non in ordine, purtroppo perché proprio per la Juventus mi è sballata la situazione. Allora, partiamo dal Napoli che io ho messo quarta e arrivata terza. Miglior difesa del nostro campionato quest'anno con 31 gol subiti insieme al Milan. La peggior difesa è stata la Salernitana con 78 gol presi, nonostante questa sia salvata, come abbiamo detto prima. Il Napoli, una squadra che quest'anno è partita anche a razzo, è partita con le prime nove mi sembra vittorie, poi dalla decima giornata pareggi, alternato comunque altre vittorie, fino più o meno a Natale, dopodiché si sono sciolti come un gelato al sole. Anche perché il Napoli ha 11 titolari, se poco poco se ne fa male uno e lo sostituisci non è la stessa cosa. Ha fatto un grande lavoro per quanto riguarda la prima squadra, ha potenziato le seconde linee nel mercato, mercato di riparazione che però lasciamo stare perché assolutamente lasciamo stare, con l'arrivo di Tuanzebbe mi sembra, però poca roba anche perché ha giocato molto 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 poco, un addio che conta molto come quello di Manolas non può essere sostituito da Tuanzebbe con tutto il rispetto. Secondo posto, io l'avevo messa terza per l'Inter, l'Inter miglior attacco del nostro campionato con 84 gol fatti, la seconda difesa del campionato con 32 gol subiti, una squadra quella di Inzaghi che a parte i tanti aiuti, vabbè l'abbiamo già detto, come dico da tifoso della Juventus, ma se devo parlare di tifoso di calcio dico che comunque è stata, ripeto, quella dell'Inter secondo me è stata una stagione come quella della Juve di Pirlo, l'unica differenza è che si sono giocati lo scudetto fino all'ultima giornata e noi ci siamo giocati la Champions l'anno scorso, ma al campionato finito i risultati sono le stesse, qualificazioni in Champions e due trofei di quelle che per me sono porta ombrelli, cioè nel senso sono trofei, sì, ma se le vinci sei più contento, se le perdi non ti strappi i capelli, cioè voglio dire quello. Una squadra che ho detto sarebbe partita con qualche difficoltà, è partita con qualche difficoltà in effetti. A Natale si è ripresa, dopodiché pareggio, qualche pareggio, qualche sconfitta di troppo con il Milan stavano quasi per fare lo vinco io, lo vinci tu, lo vinco io, lo vinci tu, lo scudetto e purtroppo Radu, questo portiere ex Parma che io conosco e secondo me è un bravo giovane ha compromesso con un errore molto banale perché lì non si va con il piede più vicino, si va con il secondo. perché se ti giri male la palla va in porta, ti sfila, ma lo stesso errore l'aveva fatto anche mi sembra consigli contro il Torino o Padelli contro il Sassuola, adesso non mi ricordo benissimo, mi sembra consigli avesse fatto lo stesso errore qualche anno fa, quindi voglio dire l'ha fatto un portiere esperto, l'ha fatto Radu e sta sotto l'occhio del ciclone, però voglio dire quello è un errore grave, è vero ed è costato lo scudetto purtroppo quello, ma certamente non è colpa di Radu perché l'Inter se vince quella partita a Bologna da squadra vince lo scudetto, tutto qua. Secondo posto, avevo pronosticato il Milan, anche lei miglior difesa del campionato con 31 punti, io dico vittoria meritata lo scudetto e lo ribadisco per il progetto, per quello che c'è stato dietro, per questi due anni e mezzo, quasi tre praticamente, di lavoro. Una squadra che è stata quella più costante, a parte ecco quella parentesi a gennaio-febbraio dove facevano con l'Inter lo vinco io, lo vinci tu, lo vinco io, lo vinci tu, poi è arrivato al derby, ha vinto il Milan 2-1 con la doppietta proprio del del grande Olivier Giroud. Una squadra molto costante, una squadra che ha espresso un buon calcio, una squadra che ha espresso un buon atteggiamento, ha espresso si trovava quasi a memoria in campo, devo dire complimenti a Mr. Pioli e alla dirigenza per questo scudetto conquistato. Primo post avevo messo la Juventus che in realtà è arrivato per il secondo anno consecutivo quarta e devo dire che probabilmente ho sbagliato un'altra volta, non ho fatto un'analisi a mente lucida perché è pur vero che comunque con giocatori giovani, Locatelli, McKennie, Chiesa, ho detto magari con Allegri vinceremo lo scudetto, molto probabilmente. abbiamo perso tanti 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 punti con le piccole, Venezia, Empoli, Udinese, Empoli all'andata, il Torino al ritorno, l'Atalanta al ritorno che lì dovevamo vincere, dovevamo pareggiato, dovevamo vincere per l'atteggiamento che si era visto, l'Inter andata e ritorno, all'andata potevamo vincere magari quel quarto d'ora potevamo fare di meglio, al ritorno ce l'hanno praticamente rubata, però ecco la colpa non è, la colpa è solo nostra perché noi siamo la Juventus e avremmo dovuto, noi siamo arrivati a 14 punti mi sembra a 16 punti dal Milan capolista, io dico che questi 16 punti tu potevi tranquillamente portarli a casa perché hai perso punti stupidamente contro le piccole e quindi te lo meriti di essere arrivato quarto, però se andiamo a vedere sulla carta la Juventus secondo me era una squadra che poteva arrivare tranquillamente seconda almeno quest'anno seconda non chiedo seconda poi l'anno prossimo provarà a rivincere lo scudetto io lo dico già da qui con il mercato che farà la Juventus a prescindere da chi arriverà chi partirà secondo me la Juventus l'anno prossimo lo dico già qua vincerà lo scudetto secondo me poi magari tra un anno staremo qui a dire non è stato vero però è una mia opinione e staremo a vedere questo è il quanto ecco qui la classifica che avevo fatto è stata una serie molto molto combattuta con delle squadre che ci hanno regalato una bella lotta scudetto una bella lotta salvezza una bella lotta per l'Europa staremo a vedere se il campionato 2022-2023 ci regalerà le stesse emozioni o addirittura sarà anche meglio sta di fatto che un campionato così probabilmente non lo rivedremo mai più ciao ragazzi